18 febbraio 1984. A Villa Madama, a Roma, lo Stato italiano e la Santa Sede firmano il nuovo concordato. A siglare l'accordo sono il Presidente del Consiglio Bettino Craxi e il Segretario di Stato Cardinale Agostino Casaroli. Il documento consta di 14 articoli e afferma l'indipendenza e la sovranità dei due ordinamenti e stabilisce garanzie fondamentali per la Chiesa. È il secondo accordo firmato fra Stato italiano e Vaticano dopo i patti lateranensi del 1929.